Aiuto! Sto per avere un bambino! Quando tua madre dirige il reparto di maternità, non puoi vederla molto! Se non dalla finestra! Ti voglio bene, mamma! Che dolce! Skyler, sono un po' occupata! Resta qui per un po'. E non toccare nulla! Certo, mamma! Fallo sapere a tutti che oggi l'ufficio è occupato! La figlia del primario è qui! Ups! Allora, cosa potrei fare di interessante? Ma non c'è pace nell'ufficio del primario! Dottore, sono qui per un controllo! Oh mio Dio, ma quante siete! Avete tutte una pancia enorme! Silenzio, signore! Andiamo in uno studio vuoto! Skyler è sotto shock! Così tante donne incinte! Non è per i deboli di cuore! Ma tutto bene, tesoro! Respira! Lo studio della mamma è interessante! Puoi vestirti da dottore! E aspettare i pazienti! E mentre non c'è nessuno! Disegniamo! Wow! È un capolavoro! Skyler ne farà un altro! Vorrei solo sapere che cos'è! È occupata, dottoressa! Questo è il momento di Skyler! Devo entrare nel personaggio! Si metta comoda! Cosa fa di solito la mamma al lavoro? Prende questa cosa e la passa sulla pancia! Sembra funzionare! Cosa? Ma sei almeno un medico! Vado a lamentarmi! Questi pazienti sono i peggiori! Ma come li gestisce mia madre? Eccola! Skyler! Perché spaventi i miei pazienti? Lasciamo che il vero dottore faccia il suo lavoro! È un lavoro professionale! E il cattivo umore della paziente è migliorato! Skyler è di grande aiuto! Ha già preparato i documenti! Lei sta per avere un maschietto! Oh, congratulazioni! Grazie, dottoressa! Skyler, quante volte te lo devo dire! Un ospedale non è un posto per giocare! Ma non è colpa di Skyler! E come punizione dovrà stare da sola! Ma con molti giocattoli! Non si annoierà! Piangi, piccolo! Zitto, zitto! Sono qui! Fatto! Sogni d'oro! Pare che non sia difficile essere una mamma! E il prossimo passo è imparare a mettere il pannolino! Tu farei da cavia! Devo coprire questo lato e girare qui! Non è complicato! Resta qui, tesoro! Non ci metterò molto! Oh, Skyler non avrebbe dovuto andarsene! I nuovi genitori stanno per ricevere un orsacchiotto! Cosa? Questo è un reparto maternità, non un negozio di giocattoli! Oh, scusate! Errore mio! Ecco il vostro bambino, congratulazioni! Colpa di Skyler anche stavolta! E deve nascondere le prove! E questo è lo studio del corso preparto! L'insegnante è in ritardo! Ma per fortuna c'è Skyler! Perché non giocare alla scuola? Ciao, sono la nuova insegnante! L'argomento della prima lezione sono i pannolini! Strana! Ok, iniziamo! Il pannolino va così! Ah, non funziona! Ma voi riuscirete! Provate! Come si mette? Sul braccio? No, l'insegnante dice che va sulla testa! Fate come me, ragazze! Guardate! Che metodi strani! Meno male che arriva la vera insegnante! Scusa, mamma! Non volevo! No, no, Skyler! Non andare! Sarai utile in questo corso! Sotto la guida del dottore, le future mamme vanno alla grande! Ma Skyler non si sta divertendo! Era solo un piccolo gioco! La mamma non mi lascia mangiare molti dolci! Lei è un medico! Ecco perché devo trovare un posto privato! E sbarazzarmi di questo delizioso lecca-lecca! Posso entrare? Oh, stai partorendo! Scusa! Nessuno disturberà Skyler nei cessputi! Ferma! Dove vai? Buttalo via subito! Beh, qualcuno ha avuto più fortuna oggi! Desideravo qualcosa di dolce! Ma non è giusto, mamma! Perché a lei sì e a me no? Lo yoga per la maternità è noioso! Ti siedi e ondeggi! Anche scaccolarsi è più divertente di questo! Fate una pausa, ragazze! Non ci metterò molto! Evviva! Ora sarà molto più divertente qui dentro! Facciamo festa! Divertiamoci e facciamo uno spuntino, ragazze! Non è una cattiva idea! Dovremmo fare più feste come questa! Non ci sarà nessun divertimento dopo la nascita del piccolo! Credo che il bambino sia per nascere! E ora! Ragazze, calma! Ho rovesciato la limonata! È andata bene questa volta! Ma è meglio stare attenti con le donne incinte! I bagni nel reparto maternità sono sempre occupati! Ma perché ci mette tanto? Ragazze, mi metto in fila dietro di voi! Ma qualcosa mi dice che potrei restare bloccata qui per sempre! Devo essere creativa! Scusate ragazze, ma devo andare per prima! Sarò in travaglio tra cinque minuti! Finalmente via libera! Ups! È la mamma! Skyler sta facendo di nuovo casino! Tira fuori quel cuscino! E torna in fila! Non ti vergogni? Ma era solo uno scherzo! Quando devi davvero andare, faresti qualsiasi cosa! E ci risiamo! La mamma lo fa di nuovo! Tutto a causa di una F in matematica! Skyler! È inaccettabile! Sei in punizione! Siediti qui per un paio d'ore! Ora sarai una bambina per la pratica! Le mamme in attesa sono per torturare Skyler! Bambina! Vuoi un sonaglino? Ti piacciono le bolle? Oh sì! Così va meglio! E ora vediamo come nutrire il piccolo! Mettiamo il bavaglino! Apri la bocca! Deliziosi fiocchi d'avena per la nostra dolce ragazza! Gnammi! Ora la piccola è stante e deve dormire! È ora di fasciarti! Qualcuno mi aiuti! Ma la punizione è proprio questa! Devi soffrire! Mamma! Prometto che rimedierò a tutte le F! È ora di andare a caccia di dolci! Ce n'è in abbondanza nel reparto! Signorina! Dovrò confiscarli! Queste sono le regole! Non resta che prendere una soda! Ma ecco la pianta grane! Sei una mamma in attesa! Non puoi bere quella roba! Mmm! Quei dolcetti sono deliziosi! È tutto! Lo porto con me! Come niente dolci! Ma ieri era permesso! Skyler ha raccolto un sacco di merendine proibite! E le prove devono essere distrutte! Qualsiasi cosa per la salute delle madri in attesa! Skyler non perde tempo! Ha già messo in piedi la sua start-up nel reparto maternità! Una sala relax per donne incinte! La prossima! Entra! Vieni avanti! Soldi in anticipo! Va bene! Cominciamo a rilassarci! Un bicchiere di latte? Mangia più verdure, tesoro! Fanno bene al bambino! Sì! Rilassati! Ora fai finta di essere in spiaggia! Il suono dell'acqua, la brezza! Bello, vero? Ma l'idea di business è destinata a fallire! Skyler! Di nuovo? Che brutto momento! Skyler stava per espandere i suoi affari! Dovrà dare il suo duro guadagno a sua madre! La sessione è finita! Troppo relax! Fa male alla salute! Alla mamma serve un po' di relax! E non è proprio una cattiva idea! Che momento felice! Le madri vengono dimesse dal reparto maternità! Ehi, è io! Non dimenticate di fare una foto! Skyler non perde l'occasione di posare per le foto! Ecco la prossima coppia! Anche qui mostrerai il suo talento di modella! Skyler ha così tanti scatti memorabili! È già come una famiglia per questi genitori! Peccato che la mamma non abbia apprezzato le sue foto! Skyler! Il fotobombing non è bello! Ma come hai potuto? Tu non capisci, mamma! Volevo solo che si divertissero! E sembra che Skyler ci sia riuscita! Ti sono piaciuti i nostri sketch? Ti piacerebbe che tua madre dirigesse il reparto maternità? Scrivilo nei commenti! Metti un like al video, iscriviti al canale e invita i tuoi amici! E clicca sulla campanella per non perdere mai nessun nuovo video su Troom Troom Select! Scriviti al canale